e per prima cosa stendo uno strato di tre ma ci credete che questo intro l'ho fatta 15 volte perché quella gatta troia se ne va cosa devi dire a tua discolpa giustificati cosa vuoi cosa vuoi cosa vuoi sii così carina sii così carina carina come possiamo notare la madre sniffa l'erba dopo aver sniffato l'erba la madre si sente molto meglio percolate che un esemplare del genere sniffa erba dalle 3 alle 4 volte al giorno un esemplare di gatto polare delle nevi giriamo la videocamera qui c'è un altro gatto che dorme dalle 12 alle 99 ora al giorno ma andiamo a vedere come si comporta un gatto drogato proviamo a vedere cosa c'è ci avviciniamo con cauteria insieme al gatto oh ma c'è un chitra selvatico vedete ora si infida di me in questa situazione il gatto si sente al sicuro e quindi sarei liberi di fare così mani in alto mani in alto questa è una rapina aia ma sei una troia quindi dopo aver messo a nana e il vostro gatto sotto il sole di ottobre buonanotte amore ok sono 10 per il ricadito direi che è un ottimo lavoro ciao non ci sono per nessuno no Grazie a tutti.